In un'aula che avrebbe dovuto essere il palcoscenico di un fondamentale dibattito sul lupo, il Consiglio è risultato assente, scatenando l'indignazione dell'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la montagna del ministro per gli affari regionali, che non ha esitato a definire questa mancanza come scandalosa, sottolineando una carenza di rispetto verso il Parlamento. L'eurodeputato ha espresso inoltre il suo... Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.